Sì, io sono stata la prima che è aderito all'iniziativa di Altieri, anzi sono nel comitato promotore. Ah, lo so, e io stasera sono venuto qui appunto per farmi un'idea di come la pensa il comitato. Vogliamo parlare con tutti i nostri amici, vede commissario, noi speriamo soltanto di non restare isolati in cinque, magari dieci, a farci coraggio e a dire no al pagamento delle tangenti, mentre tutti gli altri poi fanno il doppio gioco, dicono guai a sottomettersi a questa infamia e magari hanno già lì la busta pronta con i soldi della protezione. E come pensa di evitare questo pericolo? Pubblicità, commissario, fiatto alle trombe, sotto con i mass media, dichiarazioni, interviste settimanali, radio, televisione, mi seguo. Ah, come no? Lei ha detto, mi pare, queste cose è un rotocalco, un'intervista nei locali della sua pellicceria, c'era anche la sua foto insieme a Bordi, anzi dammi un momento Francesco, ecco, ecco qui, vede. Mi raccomando la fotografia, sì ma questo è un giornale, caro commissario, uno solo, e gli altri? Eh? Senta, ho visto prima che c'è anche la direttrice della gioielleria di Altieri, ma a che titolo? Non è un fronte comune fra, fra commercianti? Solidarietà, commissario. Sì, Piera, Piera Schiavo, è la direttrice della gioielleria di Altieri, direttrice, è forse qualche cosa difficile. Grazie.